Corezzo, comune di Chiusi della Verna, siamo nella Valle Santa Alto Casentino. Qui nasce la cooperativa di comunità grazie ad un finanziamento della regione toscana. Queste iniziative sono positive, noi le abbiamo fatte proprio partendo da esperimenti di collaborazione. Qui c'è collaborazione perché c'è già una piccola produzione privata, c'è una prologo che mette a disposizione i locali per allargare questa produzione, c'è la cooperativa di comunità che se ne farà a carico, nella cooperativa di comunità ci sono sia soggetti di piccola economia ma anche persone del paese e se si riesce a farla funzionare la regione poi potrà dare una mano. Questa è un'altra dimostrazione che se c'è la voglia, la volontà e l'impegno e se si mettono anche delle economie si può raggiungere gli obiettivi importanti e questo è uno di quegli obiettivi importanti per il nostro comune e per la nostra valle. Un progetto per promuovere un intero territorio partendo da un prodotto tipico come il tortello alla lastra ma allargando poi le azioni ad una vera promozione turistica di questo bellissimo angolo di Toscana. La cooperativa nasce in maniera naturale per dare seguito a un percorso importante che ha fatto la Proloco cioè ricercare un prodotto tipico del posto, se leggete il cartello in ingresso ci dice Corezzo il paese del tortello alla lastra, quindi si parte da lì, si parte dal tortello alla lastra quindi costruire intorno al tortello un prodotto per creare su Corezzo un punto di un laboratorio per la trasformazione e la produzione di questo, cercando di riportare il lavoro in questo piccolo paese di montagna. Partendo da questo tortello come sarà sviluppato poi la promozione di questo territorio? Partendo dal tortello come diciamo scusa, ecco perché poi noi abbiamo tanto territorio da vendere abbiamo la via Romea, abbiamo la Verna, abbiamo Camaldoli ad un passo quindi l'idea è quella di sollecitare con la curiosità del prodotto per riuscire a portare qui gente e fargli visitare e godere di queste bellezze che poi insomma avete avuto modo voi oggi di vedere.